La leggerò tutta, grazie Presidente. Dunque, abbiamo parlato spesso qui dei disagi dei pendolari dei viaggiatori. I treni rappresentano spesso un disagio appunto per i pendolari che si spostano per motivi di lavoro, di studio familiari e si ritrovano a dover fare giornalmente i conti con ritardi, cancellazioni, con vogli strapieni e sporchi, gelidi d'inverno e asfissianti d'estate. La vita del viaggiatore e utilizzatore di treni, sia esso pendolare o fruitore occasionale, non è cosa facile e non lo è anche per le difficoltà che in certi casi diventa anche impossibilità di fare riconoscere i propri diritti da chi gestisce il trasporto ferroviario sia nazionale sia regionale. Tra le richieste di rimborsi rifiutate per causa di forza maggiore e quindi riguardante circostanze non correlate all'esercizio ferroviario come maltempo e calamità naturali o comportamenti di terzi, tra gli indennizi rimandati al mittente rifiutati per motivi non imputabili alle società di gestione e altri motivi, insomma, riuscire ad avere soddisfazione rischia di diventare un lungo e complicato percorso ad ostacoli. Ma l'interpretazione della normativa in materia di rimborsi è cambiata recentemente, anche ma non solo grazie alla Corte di Giustizia Europea, che con una sentenza del 2013, appunto quella ricordata nel titolo, la 509-11, ha fornito un'interpretazione chiara della normativa comunitaria riguardante i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, stabilendo che un'impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall'obbligo di indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore. Quindi è una sentenza direi dirompente. La causa di forza maggiore non può più essere quindi usato come giustificazione per non pagare i viaggiatori. Questa sentenza la Corte di Giustizia Europea ha quindi aperto la strada al diritto certo a ricevere un rimborso seppure parziale del costo del biglietto. Sulla base di questa sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea, l'Associazione di Consumatori Altro Consumo, la principale associazione di consumatori italiana, ha diffidato Trenitalia, NTV Italo e appunto Trenord affinché eliminassero dalle loro condizioni generali di trasporto le clausole che prevedono limitazioni o esclusioni dall'obbligo di indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore in quanto clausole vessatorie e abusive. A distanza di soli due mesi dalle diffide di alto consumo, Trenitalia e NTV Italo hanno adeguato le loro condizioni contrattuali alla decisione della Corte di Giustizia Europea, mentre Trenord invece non si è ancora adeguata mantenendo l'articolo 111 delle proprie condizioni generali di trasporto la clausola abusiva e limitativa della responsabilità in caso di forza maggiore. Nel dicembre 2013 Altro Consumo si è vista costretta sulla base, faccio notare, di una legge nazionale, ossia del Codice del Consumo, a promuovere nei confronti di Trenord un'azione inibitoria al Tribunale di Milano affinché il giudice ordinasse a Trenord la cancellazione e la modifica delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto. Cioè a dire, la società di trasporto regionale, posseduta dalla magnifica, eccellente e virtuosa regione Lombardia, si è dovuta far trascinare in tribunale da un'associazione di consumatori perché non vuole adeguare il suo contratto di trasporto ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea. A me sembra un fatto veramente grave, soprattutto anche di fronte al fatto che l'operatore nazionale Trenitalia, contro cui, come dire, si parla di Trenitalia, del resto d'Italia sempre in maniera denigratoria, e piuttosto che l'operatore privato concorrente in Etivitalo, hanno invece adeguato, eliminando, ripeto, una clausola vessatoria dal loro contratto generale di trasporto. Quindi questa mozione chiede, in poche parole, alla Giunta di farsi parte attiva verso Trenord per richiedere l'immediato adeguamento delle condizioni generali del contratto di trasporto di Trenord rispetto a quanto previsto dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza sopracitata, così come peraltro già fatto da Trenitalia e NTV Italo. Grazie. Pregherei anche, sottosegliero, di fornire in forma scritta le modifiche che ha fatto anche a questa richiesta di Alloni. Io ho visto i testi del consigliere Rolfi, consigliere Alloni. Comunque, insomma, ho sentito anche la modifica proposta dal sottosegretario Parolo, va bene, insomma. Quindi, lei accoglie le modifiche con le integrazioni ulteriori formulate dal sottosegretario Parolo che adesso verranno trasmesse anche alla Presidenza. Va bene, grazie. Sono aperte le dichiarazioni di voto. Sì, a rafforzamento di quanto già ben esposto dal mio collega Casalino, primo firmatario di questa mozione, io vorrei evidenziare che il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto ed è quindi necessario che sui diritti siano tutelati. Questa dell'esonero per le cause che sono, diciamo, di forza maggiore è proprio uno degli indici sui quali si battono molti comitati pendolari dal basso da anni proprio perché va ad inquinare quelli che sono i reali indici di affidabilità delle linee pendolari percorse dai nostri treni parlo delle linee Trenord tutti i giorni. Ci si dimentica che l'azienda in questo modo non rimborsa un servizio che è stato pagato regolarmente e di cui l'utente non ha potuto usufruire, nel contempo l'utente stesso ha subito ulteriori danni da questo ritardo e questi danni non gli verranno rimborsati da nessuno. Quindi il carico per l'utenza in quanto parte contrattuale debole è doppio e quindi indispensabile che Trenord, soprattutto in quanto azienda partecipata da Regione Lombardia, voglia inserire all'interno del contratto di servizio recependo interamente quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea. Per quanto riguarda l'integrazione richiesta dal collega Rolfi, anche qui naturalmente noi siamo assolutamente favorevoli. Forse il Presidente ricorderà che qualche tempo fa, prima di essere eletta, in qualità di portavoce di un comitato dei pendolari, feci presente la questione della mancata rimborsabilità del titolo Io viaggio più volte all'assessorato infrastrutture, proponendo anche dei validi percorsi che si sarebbero potuti instaurare per rendere rimborsabile questo titolo di viaggio a tariffa unica per la Lombardia. Ed è molto semplice, lo ripropongo qui anche oggi. Quando si va a sottoscrivere il contratto per il titolo Io viaggio, di cui peraltro io sono in possesso perché viaggio tutti i giorni con questo titolo, si deve anche indicare la propria linea di appartenenza che viene registrata presso l'azienda Trenord. Per cui se io mi registro sotto la linea Pavia-Milano, poi la rimborsabilità del mio titolo proporzionalmente può essere fatta tenendo presente la mia tratta principale di viaggio. Quindi non è così complicato instaurare un criterio per la rimborsabilità di questo titolo integrato. E secondo me, come in molti casi, se c'è la volontà politica di farlo, si realizza anche con facilità. Quindi noi confermiamo che voteremo a favore di questa mozione anche con l'emendamento proposto dal collega Rolfi.